Mamma mia, quanto ti sono grato per tutte le premure che hai nemico in fronte. Tira sulle braccia. Sì. Questi li mettiamo di sotto per appoggiarli. Questo dietro la schiena, c'hai di lì? Sono te dolce. Questo per tenere sulla testa. Faccomi. E questo per farmi le vetture. L'hai visto le vetture? Che bello mi voleva soffugare! Emilio Solfrizzi è il malato immaginario di Molière. È uno degli appuntamenti più attesi del cartellone del Teatro Petrarca di Arezzo organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo. È un po' un ritorno alle origini per questa commedia perché il protagonista in scena restituirà al testo un aspetto tanto importante quanto spesso dimenticato, il rifiuto della propria esistenza. Secondo me gli attori si preparano tutta la vita per sperare di affrontare un personaggio come quello di Argante. E' stata una bella proposta del regista Guglielmo Ferro, il quale un giorno è venuto e si è presentato a casa mia e ha detto «Sai, mi piacerebbe tanto rappresentare un Argante del malato immaginario più giovane, più in forza, diciamo così, perché chissà per quale motivo la tradizione aveva un po' consegnato questi ruoli a degli attori un po' più in là con gli anni e quindi era immaginabile che il pubblico pensasse che l'attore in qualche modo gli acciacchi ce li avesse, non fossero totalmente immaginari. Per cui l'idea di fare un Argante un po' più giovane e chiuso in una torre che imprigiona le sue ipocondrie e la sua voglia di non guarire, il suo circondarsi di medici, truffaldini, eccetera, eccetera, mi piaceva molto e quindi mi sono allenato all'idea di poter immaginare tutto un mondo che non c'è». «È un personaggio che in realtà ha più paura di vivere che di morire?» «Sì, il che lo rende straordinariamente attuale, Argante è chiuso in una sorta di bolla, lui non esce più di casa, si cura per malattie che non ha, come ho già detto, si circonda di medici che lo convincono di essere malato, di ciarlatani che gli danno e gli prescrivono medicinali e cure che non curano assolutamente nulla. Dio solo sa quanto questa pandemia, quanti Argante ha creato, perché la pandemia non è solamente la pandemia che abbiamo vissuto della malattia, ma è anche una pandemia sociale, la pandemia della paura, quella paura che ha fatto in modo che tantissima gente non tornasse a teatro, per esempio, non andasse più a cinema, al ristorante, quantomeno si rifugiasse in casa per paura di contrarre il virus che evita luoghi di assembramento, il tutto ovviamente in questo caso giustamente, ma tante volte ci sono gli strumenti per affrontare questa malattia con la quale sembra che noi dobbiamo convivere, quindi rinunciare a vivere ha un costo, è quello che suggerisce Molière, non è affatto gratis, quindi l'idea di tutelare la vita non vivendola è una cosa che non funziona.